Una scuola ancora precaria, questo secondo la CGL è lo scenario che attende insegnanti e studenti all'apertura dell'anno scolastico. I posti vacanti, secondo i calcoli del sindacato, sono circa 7.400. Non tutti verranno coperti dalle stabilizzazioni previste dal Governo. Le stabilizzazioni previste dal Governo rispondono a circa una metà dei posti vacanti per la Toscana, per cui noi avremo comunque circa 4.000 supplenze annuali da dare e comunque avremo una quantità di posti ATA che saranno resi instabili. Questo è davvero la prima cosa che il Governo avrebbe dovuto occuparsi di risolvere. E a fronte di un aumento degli alunni il personale ATA, segretari e custodi, diminuisce. Noi abbiamo in Toscana la perdita di oltre 100 posti in organico di diritto. Questi posti ci saranno resi in organico di fatto, ma sicuramente anche questa situazione crea grande confusione nell'organizzazione delle scuole per il primo di settembre, che ricordo è semplicemente tra un mese.